La Polizia di Stato ha tratto in arresto due giovani di Palermo e ha impedito il furto di due auto, uno tentato e l'altro appena compiuto, in zone diverse della città. Gli arresti sono stati effettuati nel contesto di una maggiore attività di controllo del territorio, anche in base alla localizzazione geografica dei reati. È emerso che negli ultimi tempi si è verificato un aumento dei furti, soprattutto durante le ore notturne, che hanno coinvolto Fiat 500, comprese quelle situate nel quartiere Zisa e nelle aree circostanti. Nel dettaglio una squadra del commissariato di polizia Zisa Borgo Nuovo stava pattugliando via Bernini quando ha notato un giovane che stava cercando di forzare la porta di una Fiat 500 bianca e poi è entrato nell'auto. Il giovane ha reagito rapidamente alla vista delle insegne della Polizia di Stato e ha ascoltato l'ordine degli agenti di fermarsi prima di tentare una fuga spericolata che si è protratta per alcune centinaia di metri e ha richiesto l'intervento degli agenti per circa 15 minuti. Il fuggitivo, un sedicenne con precedenti penali, è riuscito a nascondersi tra la fitta vegetazione delle case e delle zone residenziali, superando i recinti di proprietà privata, ma è stato infine scoperto e arrestato dagli agenti. Negli stessi giorni un giovane palermitano è riuscito a rubare una microcar appena parcheggiata in via Asciuti. La rapida segnalazione del furto da parte del proprietario e la successiva comunicazione del modello e della targa alle volanti distribuite nella città hanno contribuito all'efficacia delle ricerche. Il veicolo è stato rintracciato in corso Calatafimi inizialmente e successivamente in via Imera dove una pattuglia dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha intercettato il giovane. Sull'auto e all'interno sono stati riscontrati danni specifici che non erano presenti prima e che erano compatibili con un tentativo di furto. La serratura danneggiata, l'accensione manomessa, lo stereo danneggiato e i fili elettrici tagliati. Il giovane, un 23enne di Palermo, è stato arrestato e le indagini sono in corso per identificare eventuali complici. Il veicolo è stato invece restituito a legittimo proprietario. Entrambi gli arresti sono stati autorizzati dall'autorità giudiziaria.